Nemmeno più gli ospedali rappresentano un posto sicuro in cui potersi rifugiare. Sabato scorso, di fronte all'ospedale di Kamala Dwan, dei bulldozeri israeliani hanno letteralmente schiacciato delle tende di fortuna che i civili palestinesi avevano posizionato nel cortile di fronte all'ospedale. Di eventi come questi ne avremmo una lunga lista da elencare, tragici che ci fanno provare rabbia per chi li commette e per chi li giustifica. Solo dal 7 ottobre 135 ospedali sono stati bombardati e tantissime persone ne sono rimaste uccise. Molte di queste i nostri colleghi e colleghe, morte mentre cercavano di portare avanti il loro lavoro. Sono tantissimi i bambini uccisi dalle bombe israeliane, i bambini traumatizzati perché recuperati da sotto le macerie e quelli rimasti orfani, senza fratelli o sorelle, senza più nessuno della propria famiglia a prendersi cura di loro, perché anche loro uccisi o rimasti sotto le macerie. In quanto sanitari proviamo a metterci nei panni di tutti i medici che lavorano incessantemente da mesi, costretti ad amputare arti, a eseguire operazioni in condizioni non igieniche, senza anestesia, senza luce e senza acqua. Colleghi e colleghe, costretti a lavorare nonostante abbiano perso i loro cari, minacciati dall'esercito israeliano che li costrigge ad abbandonare l'ospedale in cui hanno speso tutte le loro energie e le loro lacrime perché l'ospedale verrà bombardato o invaso. Non possiamo neanche lontanamente immaginare come possa essere lavorare così. Estimiamo e siamo solidali alla loro forza e determinazione che li fanno restare lì, giorno dopo giorno. Troppi ospedali sono stati bombardati e troppi nostri colleghi sono morti. Riteniamo inaccettabile tutto ciò e vogliamo denunciare ciò che sta avvenendo a Gaza. chiediamo a tutti gli ordini di medici, omceo, infermieri, opi e di tutte le professioni sanitarie di prendere una posizione netta chiedendo un cessate il fuoco immediato e di agire in difesa del diritto alla cura. Gli ospedali devono essere un luogo intoccabile e sicuro e nessuno ha il diritto di bombardarli e rimanere impunito. Chiunque tra i laboratori della sanità abbia visto in questi mesi le immagini che ogni giorno ci arrivano da Gaza non può non essere rimasto scosso. Abbiamo iniziato a vedere le stanze e i corridoi degli ospedali di Gaza così simili a quelli che percorriamo tutti i giorni nel nostro lavoro riempirsi di malati gettati in terra senza coperte, senza barelle senza i farmaci e i presidi necessari. Abbiamo visto donne e bambini estricati dalle maserie e ustionati dalle bombe sporchi di terra e sangue perché in ospedale non c'era l'acqua. Abbiamo visto neonati morire perché mancava l'elettricità per le incubatrici. Abbiamo visto i morti accumularsi e sentito i pianti disperati di chi perdeva i suoi cari. Abbiamo visto l'impotenza negli occhi dei colleghi in Palestina e visto con quanta tenacia stavano lottando. Chiunque lavori nella sanità in quell'immagine ha provato a vedere se stesso i suoi pazienti, le sue stanze, i suoi corridoi il suo ospedale e immaginandolo ha provato sgomento, disperazione e rabbia. Poi abbiamo visto i bombardamenti e saputo che in quegli ospedali quei pazienti e quei colleghi non ci sono più. Non possiamo quindi tacere di fronte agli orrori che avvengono a Gaza sotto gli occhi di tutti e non possiamo e non vogliamo rimanere indifferenti di fronte al genocidio del popolo palestinese. Chiediamo ai nostri e alle nostre colleghe di prendere una posizione in solidarietà sanitaria di Gaza che ancora oggi stanno lottando con le unghie e con i denti per i loro pazienti e chiediamo che gli ordini professionali nella nostra categoria lavorino e facciano pressione sulle istituzioni perché venga chiesto un cessato il fuoco immediato. Nato nel 1986 il dottor Allò ha dedicato la sua vita allo studio della medicina sin dalla laurea con l'ora di medicina e chirurgia presso l'università Sana'a in Yemen. Si è poi trasferito in Giordania dove è stato internista in medicina interna concludendo il suo percorso con il massimo di voti e proseguendo formando i giovani medici specializzanti in medicina interna. Si è poi specializzato in nefrologia consapevole di quanto questa competenza fosse necessaria nella striscia di Gaza. Il suo obiettivo è infatti sempre è stato quello di tornare a casa e applicare le sue conoscenze ed esperienze dove erano maggiormente necessarie. E così ha fatto dopo 14 anni passati all'estero per approfondire i suoi studi. Lo scorso novembre un attacco aere israeliano ha colpito la famiglia di sua moglie la cui casa era diacente all'ospedale a Shifa uccidendo lui e suo padre. Non sappiamo ancora che era in stato dei suoi due figli e di sua moglie incinta. Il dottor Allò è sempre rimasto nella striscia di Gaza nonostante la guerra in corso e ha sempre rifiutato di riuscire all'ospedale di a Shifa per poter continuare a curare le vittime dei bombardamenti israeliani anche dopo aver ricevuto l'ordine di evacuare a caso dell'arrivo dei soldati israeliani. Ha dichiarato se me ne vado chi curerà i miei pazienti? Non siamo animali abbiamo diritto di ricevere delle cure mediche adeguate. Pensate abbia studiato medicina per 14 anni solo per pensare alla mia vita e non alla quella dei miei pazienti? Il dottor Youssef Almadi insieme ai suoi fratelli Basel e Raed stava lavorando presso la loro clinica ostetrica in Gaza City fornendo instaccabilmente cure alle vittime dei continui attacchi israeliani specialmente neomamme e neonati. Un missile israeliano ha colpito la clinica Almadi uccidendo Basel e Raed Youssef ferito dopo aver in vano cercato qualche sopravvissuto all'attacco si è visto costretto a fuggire verso sud dove ha incontrato i carri armati israeliani nonostante avesse mostrato il camice in segno di pace l'esercito israeliano ha aperto il fuoco sui rifugiati che si stavano spostando da nord a sud causando numerose vittime e feriti. Youssef ha proseguito a piedi per altre 5 ore arrivando infine a sud colmo di dolore e senso di colpa ha scritto sulla sua pagina Facebook nessuno muore prima del tempo ma alcuni muoviono senza dignità senza umanità e senza principi vergogna i suoi fratelli Basel e Raed erano medici specializzati in ostetricia e ginecologia anche se operavano in una clinica privata hanno sempre tenuto in considerazione le condizioni economiche delle donne che si rivolgevano a loro. Il dottor Nasr Al-Madun è uno studente al quarto anno di medicina e un membro dello staff medico dell'ospedale Kamala Adwan Il dottor Nasr è stato preso in ostaggio dai soldati israeliani che hanno invaso Gaza in un'operazione di oppressione e umiliazione come molti altri ostaggi è stato vittima di trattamenti degradanti è stato costretto a spogliarsi ed è stato ripreso in video che sono poi stati diffusi tra le forze di difesa israeliane facendo passare questi ostaggi come membri della resistenza palestinese nel tentativo di diffondere una falsa narrativa. Io vi leggo una poesia del poeta palestinese Mahmoud Darwish Mentre prepari la tua colazione pensa agli altri non dimenticare il cibo delle colombe Mentre fai le tue guerre pensa agli altri non dimenticare coloro che chiedono la pace Mentre paghi la bolletta dell'acqua pensa agli altri coloro che mungono le nuvole Mentre stai per tornare a casa a casa tua pensa agli altri non dimenticare i popoli delle tende Mentre dormi contando i pianeti pensa agli altri coloro che non trovano un posto dove dormire Mentre liberi te stesso con le metafore pensa agli altri coloro che hanno perso il diritto di esprimersi Mentre pensi agli altri quelli lontani pensa a te stesso e di Magari fossi una candela in mezzo al buio a te stesso Grazie a tutti